E' il parlamentare Antonio Federico, il plenipotenziario di Giuseppe Conte in Molise. A lui va la nomina coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, ricevuta direttamente dall'ex presidente del Consiglio. La spunta quindi sugli altri nomi impredicato fino a ieri, quelli del capogruppo in Regione Andrea Greco e del sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Spetterà a lui gestire la delicatissima partita delle regionali 2023 e delle politiche. Avvierò sin da subito, dice, un confronto con le forze sociali sul territorio a partire dal mondo sindacale per poi aprire il confronto con i partiti. Federico conferma l'alleanza in Molise con il Partito Democratico in continuità col quadro politico nazionale. Sul piano della scelta del candidato alla presidenza della Regione i tempi sono prematuri e le indicazioni nasceranno da un confronto con eletti e attivisti. Sempre sul tema delle regionali è intervenuto Andrea Greco che, partendo dall'analisi del dato decisamente negativo conseguito alla recente tornata amministrativa, parla di un movimento ancora forte in Molise, bene l'alleanza col PD, dice, ma senza alcuna forma di subalternità. Non bisogna girarci intorno, il Movimento 5 Stelle non ha fatto bene a queste amministrative. Questo accade storicamente, c'è anche da dire questo, che il Movimento soffre le elezioni amministrative perché da sempre non abbiamo quei legami territoriali, quella rete di relazioni di cui invece gode la politica. Chiaramente a livello regionale, a livello amministrativo regionale, la partita è totalmente diversa. Noi abbiamo anche detto, oggi abbiamo anche dei dati scientifici che supportano la diversità appunto di quello che accade in Molise. Credo che qui si è lavorato tanto, abbiamo cercato di fare sempre il meglio possibile. Chiaramente si sbaglia anche, durante questi quattro anni abbiamo anche sbagliato, però sempre nell'interesse dei cittadini molisani. A mio avviso il Movimento perde tutte le volte che perde la sua natura, questa è la verità. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non snaturarci, il Movimento non è una succursale del Partito Democratico e lì dove si è comportato a mio avviso in tal modo i risultati si sono visti e sono stati a mio avviso disastrosi appunto per il Movimento.